Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. 7 e 10 minuti precisi in questo istante, qui negli studi di Good Morning Milano, in quel di San Siro su cui svetta alto il sole, insomma il sole il mio Dio, diciamo la luce. Avete visto come si stanno allungando le giornate o meglio come si stanno schiarendo le mattinate? Una volta quest'ora entravamo in studio in onda con fuori il buio pesto della notte, le tenebre di Gotham City come alcuni li vogliono chiamare, invece è luce, luce fu e la luce vi entri nelle case grazie anche alla nostra voce qui sulle frequenze di Crystal Radio e anche sui bit e i byte digitali della nostra app del nostro sito Ovunque voi siate potete sentirci tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio con Good Morning Milano. Allora abbiamo anche un numero di Whatsapp a cui potete scrivere che è il 331-78-53555. Tutto questo è l'inizio, tutto questo è il principio ma poi durante la giornata, durante la mattinata, durante le nostre ore in compagnia vostra, tanti sono i contenuti che vi regaliamo e vi diamo molto volentieri, anzi che poi anche voi date a noi grazie appunto alla vostra interazione. Con Whatsapp ma anche sul nostro sito internet, sul nostro TikTok su cui state interagendo in tanti e state anzi lusingando la nostra redazione. Iniziamo con la musica, iniziamo con Loredana Bertè che sapete non sta tanto bene quindi tanti auguri a Loredana con un pezzo che vabbè ha fatto la storia della musica italiana e non solo appunto di Loredana ma poi della musica italiana. Lei che nel lontano 82 credo giù di lì cantava di non essere una signora. Lei Loredana Bertè qui a Good Morning Milano. Buongiorno a tutti. Loredana Bertè non sono una signora e Loredana tanti auguri appunto di pronta guarigione, sappiamo appunto che non è stata molto bene, ha dovuto anche annullare un concerto, speriamo appunto di avere buone notizie presto. Come le notizie che arrivano al 3317853555. Whatsapp di Alberto che ci dice buongiorno Fabio, buongiorno ascoltatori di Cristal Radio Milano, buon martedì a tutti con una giornata che finalmente si palesa senza pioggia e con un cielo sereno. Grazie al nostro Bernacca collegato da casa che ci dà le previsioni del tempo. No, effettivamente oggi finalmente cielo non piovoso, si sta aprendo qualche schiarita. Già ieri nel pomeriggio non so avete notato che è uscito un pallido sole che già stava un pochino scaldando l'ambiente. Il problema è quello che si passa poi dalla pioggia da 5 gradi di colpo su 17, 18, 20 gradi insomma. Poi dopo dicono che il cambiamento climatico non c'è, vabbè, vabbè, se siete contenti vorrei dirlo. Comunque è stato il fatto che avete visto tutto come si stanno allungando le giornate, adesso fino al giorno che cambieremo l'ora si allungheranno le mattinate, poi torneremo in un'oretta, ma poi comunque ormai tutto in discesa verso l'estate, ormai già no, verso la primavera, comunque nel senso verso la luce. Devo dire che arrivare appunto in studio, non essere avvolto dalle tenebre di Gotham City effettivamente cambia l'umore. Non so se anche voi siete così, se anche voi vi cambia. In realtà so che c'è anche gente che invece apprezza la tenebre, apprezza... Conosco gente che apprezza ad esempio la pioggia, quando piove affascinati a guardare le strade che si riempiono di acqua e quel sincopare, quel ritmo sincopato che scende sull'asfalto delle gocce della pioggia. A molti piace, quindi insomma ognuno vede un po' quello che vuole, anzi la bellezza e anche quello della nostra città e anche insomma del genere umano in toto, diciamo. Le notizie sono tante, sto leggendo un timino qua sullo Corriere, su Repubblica, in realtà velocissima la segna stampa. Ci sarà notizia dopo, vediamo, che a Baggio stanno già aumentando i prezzi delle case perché deve arrivare la metropolitana. Non c'è ancora ma già stanno aumentando i prezzi. C'è invece notizia che Daniele Nahum, consigliere comunale del PD, lascia il PD perché non è d'accordo con l'utilizzo della parola genocidio da buona parte del PD che la utilizza per definire la tragedia umanitaria di Gaza, così dice Nahum. Insomma sono tante le notizie, si parla ancora di panini e cibo di Milano Ristorazione con una petizione dei genitori che è partita contro Milano Ristorazione e una grande bagarre, così intitola Milano Today, ieri sera al Consiglio Comunale perché la Scavuzzo ha fatto una domanda un po' così... che era un po' complicata da comprendere o forse ha fatto la provocazione, ha detto ma chi giova tutto questo? a quel punto si è aperto il pandemonio. Non sappiamo a chi giovi quello ma non abbiamo neanche mai capito a chi giovi invece tutto il traffico che c'è in questa città ma sicuramente non giova forse nessuno ma sicuramente possiamo evitarlo o capire meglio come fare a viverci o a conviverci lo stesso grazie a chi ha luce verde, luce verde che tutti i giorni ci dà la fotografia in tempo reale di quello che succede nella nostra città, nella provincia, nelle strade del nostro comune e anche della città metropolitana di Milano e quindi mi voglio collegare adesso con luce verde per avere proprio il traffico per avere l'idea e anzi la fotografia precisa di quello che succede in questo istante sulle nostre strade e allora a te luce verde D'argento amico, onda alta e andiamo avanti con le notizie anzi iniziamo a leggere un po' i nostri giornali e sia su Repubblica che su Corriere che anzi apre in home page al momento con questa notizia dice che cosa? Daniele Naum annuncia nel Consiglio Comunale di Milano il suo addio al PD così dice Naum, sdoganata la parola genocidio per la tragedia umanitaria a Gaza appunto dice idem sono ambigui, parlare di genocidio a Gaza è sbagliato l'annuncio arriva in aula, adego adesso da Corriere della Sera Milano a Palazzo Marino durante la seduta del Consiglio Comunale mi prendo qualche giorno per valutare quale percorso politico intraprendere non male che uno lascia senza sapere dove andare però qui molto soggettivo come cosa la cosa che un po' mi spiace è che questa scelta avviene perché perché Naum è parte in causa nel senso che lui fa parte appunto della comunità ebraica di Milano e non si riesca è quello che a me dispiace in questa situazione io poi non posso capirlo fino in fondo perché appunto non facendo parte di quella comunità non riesco a capire che cosa sta succedendo all'interno di quella comunità che sicuramente in buona parte non è d'accordo con quello che avviene a Gaza e con quello che lo Stato di Israele sta compiendo in quella zona ma difficile comunque è staccarsi o accettare certe parole molto personale come situazione molto soggettiva credo però caro consigliere Naum che uno sforzo soprattutto per chi fa politica va fatto e quindi magari non riportare al proprio vissuto, alla propria esperienza e basta una frase, una parola che sicuramente incide e può dare fastidio che è quella di genocidio verso una comunità come la comunità ebraica ma che effettivamente si fa fatica a trovarne un'altra da utilizzare nel senso che quello che sta succedendo a Gaza è a tutti gli effetti volete chiamarla polizia etnica a questo punto che si usava tanto negli anni 90 genocidio non va bene, tragedia umanitaria forse non dare l'idea perché la tragedia umanitaria è quella che avviene anche dopo lo tsunami dopo un terremoto quando la gente non sa dove andare deve magari migrare o la siccità che fa spostare popolazioni dal mali verso altre nazioni subsahariane quello che avviene a Gaza è una vera tragedia a livello di guerra quindi un genocidio, ripeto, polizia etnica non so, forse era peggio utilizzare polizia etnica come parola non so, io che sono cresciuto negli anni 90 e li ho visti, i genocidi, parlo del Rwanda ad esempio nel 94 non era molto molto diverso sì, là erano solo dei gruppi meno organizzati e poi c'erano due fazioni contrapposte che erano gli Utu e i Tuzzi ma non cambiava molto da quello che vediamo anzi, forse qui c'è più l'oppressione di una parte verso l'altra in risposta a qualcosa di tremendo come i fatti successi il 7 ottobre sicuramente però credo veramente che il consigliere Naum in quanto politico in quanto politico della maggioranza del Comune di Milano forse uno sforzo andava fatto anche per spiegare perché non utilizzare la parola genocidio secondo lei ma forse lasciare il gruppo del PD per una questione veramente troppo vicina alla sua persona non la trovo una scelta politica intelligente dopodiché però capisco capisco davvero il trasporto emotivo anche personale e devo dire che non deve essere sicuramente facile quindi non vorrei mai essere nei suoi panni in questo momento che sicuramente vive un travaglio interno non facile vedremo da che parte andrà a questo punto sicuramente non a destra nel senso sia da gruppo misto oppure passerà qualche altro gruppo Mahmood tuta gold andiamo avanti con le notizie oggi abbiamo notizie tra l'altra quindi non possiamo perdere tempo sia su Repubblica che su Milano Today troviamo che cosa troviamo la questione Milano Ristorazione leggo da Repubblica Milano la petizione dei genitori contro Milano Ristorazione dopo la plastica e l'insetto nel cibo per i bambini si cambi gestore delle mense la petizione raccolta oltre 1300 firme in poche ore le famiglie dicono siamo preoccupati per la salute dei bambini e sul caso scoppia lo sconto in consiglio comunale allora passiamo a Milano Today per raccontarvi cosa è successo in consiglio comunale sotto titolo della notizia o meglio tag titolo non so come lo chiamino sul sito di Milano Today la bagarre eh sì la bagarre vetro in setti nelle mense bagarre in comune la scavuzzo se ne va la vice sindaca dice stiamo aspettando le analisi dei NAS non ci sottraiamo alla responsabilità ma è bagarre quando la scavuzzo chiede e a chi giova la campagna contro Milano Ristorazione e lì scoppia il finimondo intanto appunto i genitori lanciano una petizione per chiedere di cambiare il gestore della mensa e cosa succede appunto allora la vice sindaco che dice appunto dice ma a chi giova a chi giova questa 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 campagna dice non ci sottraiamo alla responsabilità ma aspettiamo le attività del NAS aspettiamo appunto di approfondire che finora insomma sono stati effettuati non hanno gli approfondimenti effettuati fino ad ora non hanno portato a risultanze soddisfacenti e quindi a chi giova questo questo gioco al massacro verso Milano Ristorazione a chi giova tutto questo e a quel punto il consigliere di Fratelli d'Italia Truppo Truppo si è alzato dai banchi appunto del Fratelli d'Italia e ha urlato che giova alla salute pubblica alla salute dei bambini di Milano alcuni dei quali potrebbero essere stati ricoverati senza sapere nemmeno il perché e da qui quindi è nata una bagarre con tanto di sospensione della seduta per qualche minuto poi la Scravuzzo ha ripreso brevemente a parlare e ha abbandonato l'aula poi ha detto due cose e se ne è andata a quel punto dopo gli interventi di Truppo che dice chiede che entro sette giorni sia convocata una dai vertici di Milano Ristorazione ci sia una convocazione dei vertici di Milano Ristorazione perché dice che appunto sono loro da dover ascoltare e anche poi a quel punto anche gli altri consiglieri dell'opposizione hanno fatto grande bagarre e caos quindi in consiglio comunale peccato anche qui come al solito che c'è un'uscita fatta male perché la Scravuzzo non poteva rimanere lì ti pigli insulti è normale ma il tuo lavoro cioè io quello che non capisco nel senso io non andrei a farla quella roba lì ma perché io mi ci rimarrei male sono per maloso non so come dire quindi non ci vado se sei per maloso non vai a fare il consigliere comunale non vai a fare il vice sindaco dove ovviamente a ogni passo che fai c'è qualcuno che ti lancia non ti dico cosa ma diciamo una volta ti dice sei bravo e ti tirano le pietre sei cattivo ecco ti tirano le pietre nel senso normale è il tuo è quello che devi fare non so come dire è il prezzo da pagare per quel lavoro non è che puoi fare e pensare a tanto altro comunque c'è di fatto che appunto non non l'ha presa bene non l'ha presa bene la Scravuzzo e quindi dopo questi urla che sono arrivati dai banchi di Fratelli d'Italia dal consigliere truppo ha deciso di lasciare l'aula e andarsene nonostante appunto ci fosse in ballo questa questione di Milano Ristorazione che è importante ricordiamo appunto anche la petizione contro Milano Ristorazione che è stata fatta con 1300 firme da parte di tutti da parte di buona parte di questi genitori appunto 1300 ma non sono neanche così tanti però insomma 1300 genitori hanno firmato questa petizione contro Milano Ristorazione Alan Sorrenti figli delle stelle sempre qui su Crystal Radio alle 7.42 minuti 331 7853555 aspetto i vostri whatsapp siamo qua sempre per poter raccontare quello che state facendo com'è oggi una giornata da figli delle stelle oppure una giornata di relax non so diteci raccontatecelo devo dire che ripeto ripeto lo so sono uno che si ripete ma non è detto che tutti si sono collegati 43 minuti fa quando abbiamo iniziato quindi questa luce a quest'ora della mattina devo dire che ti fa partire la giornata in una nuova maniera cioè più così più frizzante con un po' più di energia e spero bene appunto che anche per voi sia lo stesso e sapete che c'è ma dai vai 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 come dice anche Alfa e vai Alfa con vai alle 7.46 minuti di oggi martedì 12 marzo e abbiamo in collegamento il nostro ospite di oggi stiamo parlando di come fosse un supereroe perché non ha un nome non ha un cognome non ha un volto ma il nome di battaglia è Velocipiedi buongiorno a Velocipiedi buongiorno a tutti allora sì è un po' effettivamente non ce lo siamo detti questa cosa mentre preparavamo questa intervista però per gli amici ti chiamerò Velo va bene ma Velocipiedi è come fosse una sorta di supereroe della nostra città perché ci racconta le piste ciclabili l'urbanistica in una maniera molto easy per tutti quanti cosa fa Velocipiedi qual è il superpotere di Velocipiedi allora Velocipiedi è un profilo che ha l'obiettivo di parlare di urbanistica e trasporti in un modo pedagogico cercando di essere più oggettivo possibile quindi di non prendere un'opinione e di dare le persone materiale per capire com'è la situazione e per giudicare per se stesso non cerchiamo di influenzare le scelte politiche ma di vedere i punti positivi i punti negativi di quello che c'è poi giustamente sarà la gente a farsi la sua idea e a decidere su quale simbolo mettere le crocette quando andiamo a votare però giustamente voi fate vedere Velocipiedi fa vedere un po' qual è la realtà delle cose a volte è interessante perché insomma si critica degli aspetti altre volte invece si elogiano altri aspetti è un amore tu sei molto giovane non si possono dire le cose sui supereroi quindi rimaniamo un po' così molto probabilmente avrà gli occhiali quando è civile poi toglie e diventa come superman e clarkent ma appunto il tuo mappare un po' la città raccontare un po' la città passa ad esempio attraverso dei piste ciclabili che hai raccontato molto bene e ne raccontate di positive e di negative giusto? Sì esatto ne sto anche preparando altre e vedo che è quello che piace molto alla gente perché alla gente piace diciamo polarizzare su questi argomenti e quindi io cerco di rompere un po' questo appunto polarizzazione che è interessante questa cosa perché in realtà siamo in un mondo dove chiunque cerca di polarizzare tutto dai grandi immagini Trump uno su tutti ad esempio anche poi alla fine anche noi quando cerchiamo comunque di portare dalla nostra parte qualcuno cerchiamo di polarizzare quindi alla fine io dico sempre Milano Inter tutto è tifoserie invece tu parti da un aspetto tecnico spesso volentieri però poi ce lo racconti e lo fai capire a tutti quindi ti direi senza polarizzare troppo però quali sono stati gli aspetti più positivi più negativi che hai trovato in questi primi mesi dicevamo quando è che hai iniziato con veloci piedi raccontare la città allora aspetti positivi di sicuro la comunità che si è creata dietro al mio nostro filo perché ci sono davvero persone che valgono oro che mi seguono che ogni tanto anche mi correggono a me e questo è il meglio per me che le persone mi diano delle critiche costruttive poi anche il piacere di scrivere dei testi il fatto che i testi siano limitati a 90 secondi su tutti i video mi costringe molto a scegliere le mie parole e spesso mi ritrovo con dei testi due minuti e devo togliere 30 secondi tolgo tutto quello che potrebbe essere opinabile quello che non sono molto sicuro magari ne parte di un altro video così evito di divagare e ho un contenuto chiaro per la gente che vuole vederlo e anche un altro punto positivo è che lavoro con altri amici che mi aiutano a scrivere i video dei ghost writer e invece i punti negativi sono principalmente appunto la polarizzazione i commenti i sulchi ci sono gli haters ci sono anche gli haters di velocipiedi sì sono già arrivati sì 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 in proporzione mi sa che sono molto di meno rispetto a quelli che che fanno i contenuti diciamo meno pragmatici quindi quelli che sono più apertamente contro gli automobilisti io non sono apertamente contro gli automobilisti sono per un più giusto una città più giusta nel senso disperuita meglio più sostenibile e che sono più felice diciamo quindi dove tutti possano avere il suo il proprio spazio ma invece parlando delle piste ciclabile qual è stata la migliore pista ciclabile che hai trovato a milano finora io purtroppo finora posso dire solo a buenos aires anche se ha dei difetti molto cioè abbastanza importanti però di fatto rimane la migliore pista ciclabile anche solo per la sua frequentazione perché ha tanta c'è diciamo che ha una ciclabile che dura più chilometri a 5 chilometri che si collega bene con le altre ovviamente ci sono tanti ciclisti rispetto alle altre è interessante questa cosa che hai detto Velocipiedi è interessante questa cosa che hai detto perché spesso l'interno hai fatto vedere delle piste ciclabili fatte anche molto bene ma tu dicevi il problema è che poi rimangono singole cioè non sono collegate a nient'altro rimangono lì fatte benissimo sono 300 metri 200 metri fatte a regola d'arte ma poi non c'è il collegamento con altre piste ciclabili quello invece è un dato negativo verso le piste ciclabili che possiamo trovare in città giusto? sì esatto perché è proprio quello che ostacola molte persone ad andare in bici cioè ci sono delle piste ciclabili per carità bellissime però se durano troppo poco oppure non sono state pensate per quello che devono fare penso ad esempio la pista ciclabile in corso semplione attualmente in inaugurazione o comunque completata che è in mezzo al filare alberato che è molto carina ma non è molto accessibile perché per raggiungerla si è obbligati almeno a attraversare il controviale e poi riattraversarlo per uscire ok e non si collega nessuna ciclabile perché non c'è nulla di fatto in quella zona poi magari queste situazioni miglioreranno quindi io rimango sempre ottimista questo è importante scusa però mi sono perso allora ti chiedo io invece ti chiedo io ma quindi qual è l'obiettivo visto che siamo quasi in chiusura qual è l'obiettivo finale di Velocipiedi dove vuole portarci questo supereroe della nostra città eh questo devo ancora pensarci interamente perché finale in questi termini non so quanto tra quanto tempo può essere perché ci saranno sempre sviluppi in questa in questo tema il mio obiettivo sarebbe di avere una città in generale più eh più equa nella descrizione della distribuzione delle eh de dello spazio dei eh più accessibile per tutti più semplicemente più piacevole per i pedoni perché per me i pedoni sono soprattutto anche i ciclisti perché dopo tutto siamo tutti i pedoni infatti infatti perché non dimentichiamoci che appunto il tuo nome fa velo ma il tuo cognome fa piedi quindi insomma è anche interessante questa parte qui ehm ricordaci dove possiamo seguirti dove possiamo trovarti appunto ehm potete seguire su Instagram eh il nome è Velocipiedi e in realtà è l'unico social che uso attualmente ho pensato a svilupparmi su altri canali ma sarebbe un qualche di lavoro troppo grande quindi Velo è veramente fantastico cioè allora contro ogni pronostico non vuole polarizzare contro ogni regola dei social dice no sto solo su uno e lavoro solo su quello veramente complimenti so anche vedete un bel gruppetto di super giovani che avete appunto avuto questa idea quindi davvero complimenti per quello siete facendo tienici aggiornato e magari appunto così se mai uscirà una top five dei luoghi più 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 ok e di quelli meno ok della città noi siamo qua a aspettarla sappilo che noi lo aspettiamo ecco bene bene e allora Velo grazie mille davvero per il tuo collegamento grazie soprattutto per il tuo profilo perché davvero ci dà grandi spunti di riflessione e ci insegni qualcosa anche questo è interessante educare non è cosa da tutti grazie a voi grazie per l'invitazione grazie mille allora grazie mille a Velocipiedi andiamo avanti con la musica adesso con il momento di Big Mama con la rabbia non basta Billy Joel con Uptown Girl questo il Crystal History delle otto e adesso andiamo avanti con un po' di musica perché sta per arrivare una nostra bionda che conta ma non prima di ascoltare i The Colors The Colors un ragazzo una ragazza e la ragazza quella che conta è qui con noi in studio perché adesso è il momento della Milano che conta buongiorno Viola la nostra bionda che conta ciao Fabio buongiorno a tutti buongiorno allora Milano si conta si contano cose in giro per Milano abbiamo contato di tutto allora per il momento abbiamo contato i ristoranti prima puntata era sui ristoranti poi le vedovelle le vedovelle le metro le metro e oggi ci rimaniamo comunque un po' in tema di trasporti perché da sottoterra ci trasportiamo in superficie con i tram infatti i tram i binari cosa hai contato? allora quante fermate di tram ci sono che sono molte di più rispetto alle fermate della metro che erano 121 mentre quelle di tram sono 686 686 fermate in cui rollare perché sta arrivando in ritardo il tram esatto quindi insomma luoghi in cui potete sbizzarrirvi tra l'altro 686 fermate 17 linee di tram 17 linee di tram esatto però i numeri vanno dall'1 al 33 ok questo tra l'altro mi l'avevi insegnato te sì che sono i tram che si definiscono al maschile ricordiamocelo che non si dice la 27 si dice il 27 ok mi raccomando giusto giusto qui si capisce se uno di Milano o no è vero è vero sei di Milano o sei sei di Milano o sei dici al maschile tram esatto quindi quanti sono hai detto le fermate 686 ok per quante linee 17 17 per 170 chilometri totali di 170 chilometri sì credo sia più o meno la distanza tra la periferia sud di Milano e la prima barriera di Bologna più o meno quindi possiamo arrivare quasi a Bologna in trama se li mettiamo tutti in fila immagina fare tutto quel viaggio in trama con 17 cambi perché facciamo tutte 17 le linee che arrivano fino là è vero no no e tra l'altro ho trovato che poi cioè ho trovato il tram è molto più vecchio rispetto alla metro vabbè io ho detto tutte queste cose non le avevo mai cercate oh che stupire quindi stupitevi insieme a Viola vabbè non vengo più davvero no e quindi cosa hai scoperto sono più vecchi perché quando sono così allora il primo 1876 mentre la metro è già nella seconda metà del novecento sì 1964 1874 la linea rossa 1876 quasi cento anni di differenza no niente male sappiamo che linea era che andava no 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 sai che credo che la prima linea di tram a Milano fosse quella che andava al cimitero al monumentale sì credo di sì perché venivano utilizzati i carri per portare le bare ma va e da dove partiva da credo zona non ti dico piazza Duomo ma più o meno zona centrale sì sì credo adesso ho letto qualcosa però insomma più o meno quella roba lì però vabbè non erano sicuramente i tram di oggi nel 1700 no trenati dai cavalli non erano battute no no è vero è vero questo l'avevo letto anche io sì sì è vero e poi ho trovato che i tram quelli più vecchi quelli della serie 1500 sì tra l'altro si possono trovare non solo in Italia ma vengono usati vabbè famosissimo in Portogallo a Lisbona che c'è il tram in Italia ma anche a San Francisco in America San Francisco sì lo utilizzano anche eh questo non lo sapevo linea F credo sia sapevo di Lisbona e di Porto che lì è molto ma quella la cosa particolare giustamente ce lo ricordi anche tu Viola che quelli di San Francisco sulla linea F sono proprio dei tram di Milano corretti per lo scartamento di San Francisco quindi proprio sono quelli lì beh dai e pensa che siamo stati a San Francisco no però sono stati a Lisbona a Lisbona a Lisbona c'era scritto dentro non parlare con il conducente in italiano oddio non ci ho fatto a casa perché non ci sono salita l'ho visto solo da fuori invece a San Francisco la cosa divertente è che tutta la segnaletica all'interno del vagone diciamo è ancora quella originale italiana è bellissimo quindi c'è non sputare dal finestrino non parlare con il conducente è vero sì sì avevo visto anche quello o litterare il biglietto prima di sedersi sì sì ti prendesi in contraposizione poi con quello che succede lì perché in realtà il biglietto lo fai prima c'è tutto diverso però hanno lasciato diciamo eh sì bello bello il tram bellissimo ma tra l'altro poi quei tram li vengono utilizzati anche per fare diverse cose non solo trasporto tipo tipo atmosfera quello che organizza le cene si vede passare con dentro tutti i tavolini carino si chiama ristorante quella cosa che organizza le cene si chiama ristorante in italiano ok ma si chiama ma vabbè vabbè è un tram che organizza le cene è un tram ristorante tram ristorante ok e poi anche quelle che si noleggia per fare le feste private ok l'hai mai fatta una festa sul tram? no no perché mi sa che costa tanto tanto ma scusa abbiamo trovato per la laurea diciamo raccontiamo questo backstage ieri c'è stata una riunione di redazione importantissima su che cosa fare per la laurea di Viola che avverrà intorno a luglio forse si spera sempre se si comincia a scrivere questa benedetta tesi ma il problema qual era non tanto appunto la tesi la stampa no i problemi erano due il vestito e poi il luogo dove fare la festa giusto va bene senti ti saluto andiamo con una canzone ciao no rimani qui con noi però dopo la canzone che dobbiamo andare a parlare di una cosa Anna Oxa con un'emozione da poco alle 8.20 qui su Cristal Radio Good Morning Milano non è un'emozione da poco quella che proviamo in questi giorni per Viola perché Viola dai diciamolo in diretta no perché è la mia ultima settimana qua a Good Morning Milano ho finito di lavorare qua eh sì ha finito il suo tirocinio qui a Good Morning Milano e quindi insomma ci mancherà sicuramente tanto in questa settimana stava facendo il passaggio di consegna alla nuova producer a Elisa com'è com'è tanto non ci ascolta è molto brava tanto non ci ascolta puoi dirlo no no è molto brava tra mesi dobbiamo tenercela comunque anche se ci sta guardando dall'altra parte del vetro ci sta guardando dall'altra parte del vetro no è brava è brava è brava com'è stato questi tre mesi com'è vivere la radio bello bellissimo non pensavo perché all'inizio la mia passione non era la radio non conoscevo per niente questo mondo eppure ho scoperto che mi piace mi piacerebbe continuare molto interessante e divertente soprattutto bene poi hai avuto dei grandi feedback del tuo anche essere appunto una donna che conta soprattutto del fatto di tenere le mani sul tavolo giusto è vero anzi ringrazio mia nonna perché mi ha detto brava sei brava parlare complimenti ma è brutto se ti tieni le mani sotto il tavolo tienile bene sul tavolo fai vedere postura dritta ieri sera me l'ha detto brava bello tutto però non ti posso vedere e quindi diciamo che appunto nell'ultima settimana di stagio tu finirai venerdì ma oggi era l'ultimo appuntamento con la Milano che conta quindi per quello ti ho voluto tenere qui in studio con noi ringraziamo allora anche la nonna come si chiama la nonna? Carla ringraziamo la nonna Carla anche mia nonna si chiamava Carla ringraziamo le nonne Carla ringraziamo la nonna Carla anche per i consigli di styling è vero grazie di standing che dà alla bravissima Viola Viola noi ti auguriamo veramente il meglio di tutto quello che potrà succedere da adesso in avanti ti auguriamo anche di riuscire a scrivere finalmente Statesi così almeno grazie noi ce la facciamo nel senso siamo tutti con te tutta Crystal Radio è con te grazie vi ringrazio tantissimo è stata un'opportunità molto bella e insomma così succede ogni tre mesi voi lo sapete magari se ci seguite sì sapete che insomma Crystal Radio cioè Good Morning Milano soprattutto è un progetto anche di formazione ed educazione noi facciamo questa missione proprio educativa verso queste ragazze questi ragazzi che vengono a fare un tirocinio curriculare un tirocinio che loro sono praticamente costretti a fare dall'università cerchiamo almeno di farglielo fare bene cioè cerchiamo almeno di fargli passare bene questi tre mesi qui in studio come anche appunto in questo momento Elisa che inizierà cioè ha iniziato già questa settimana poi la settimana prossima sarà da sola a produrre insieme a me questo programma Maria che invece è in regia che anche lei è una tirocinante dello Yulm invece lei fa la Yulm tu invece fai la statale insomma è anche bello vedere queste giovani menti che invece di fuggire vengono qui e anzi la cosa bella è quanto mi insegnate anche a me quanto imparo anch'io anzi non divento non invecchio mai nonostante io voglia fare l'Arlem Shake voi non me lo proibite andate a vedere su Google cos'è l'Arlem Shake se non lo sapete nonostante non sia proprio al passo con gli ultimi trend di TikTok o di Instagram però voi mi tenete al passo con tutto quello che è il vostro mondo e soprattutto una generazione che troppo spesso additiamo per essere pigra per non avere voglia di far cose invece vi assicuri comunque tre mesi per svegliarsi tutte le mattine alle sei essere qua alle sette far andare la baracca fino alle nove in diretta e poi produrre poi cercare gli ospiti i pomeriggi a rispondere ai vari ospiti insomma a trovarne e non so quanti di noi alla loro età avrebbero fatto la stessa cosa lo so andiamo avanti con la musica loro sono i Maleskin con una canzone proprio dedicata a Viola perché parla di supermodel parlava di te mi sembra io proprio proprio te sì sì come no andiamo ciao ricominciamo tutto Negra Amaro Negra Amaro che in questa canzone si sentono un po' David Bowie l'avete sentito quel conto alla rovescia molto space oddity insomma comunque non dico niente non dico niente estate buono che poi dopo dicono che sei sempre quello che non gli va bene mai niente comunque notizie invece abbastanza singolari che arriva da Corriere della Sera a Milano allora devo dire che una di quelle notizie che di solito inizia con la prima donna che e non sono notizie che io amo dare anzi ricordo sempre che esiste un portale in realtà credo abbiamo fatto anche il profilo su Wikipedia della prima donna che cosa è successo spesso e volentieri ogni qualvolta una donna faccia qualcosa viene data la notizia ovviamente in maniera sbagliata e molto colorita nel senso molto quasi da lifestyle e non in maniera invece come andrebbe gestita non so la prima donna che guida la metropolitana di Milano la prima donna che ha fatto che in realtà va a sminuire molto il ruolo soprattutto nel mondo del lavoro della donna tanto che un collettivo francese ha fatto e vi invito andando a cercare adesso si dice la prima donna in francese non so come si dica cercatelo su Google Translate ha fatto questo profilo dove racconta tutte queste notizie appunto fatte male di questa prima donna in questo caso stiamo parlando di prime donne più o meno ma è abbastanza simpatica la notizia quindi prendiamola da quell'altro punto di vista perché leggiamo appunto dal Corriere della Sera Milano Bruce Torsizio l'unico gruppo necroforo femminile d'Italia che cosa succede? è la storia di quattro donne assunte da un'impresa funebre che sono quattro donne appunto Alessia di 21 anni Melissa di 28 Elisa di 44 anni e Maria Chiara giovanissima di 19 anni sono in servizio da febbraio assunte dal gruppo caccia service di Busto Arsizio e sono il primo gruppo completamente femminile di passate qui quella che hanno chiamato nel titolo necroforo necroforo sì i becchini cioè sono il primo gruppo totalmente al femminile di becchini è interessante è troppo esagerato l'articolo scritto come al solito appunto anche lì poi si fa fatica a capire perché questa sia una notizia interessante importante da leggere nel senso anche perché poi nel titolo c'è ad esempio scritto il momento più difficile è chiudere la bara sì ma credo che per chiunque quello sia il momento più difficile non solo perché loro sono quattro donne cioè non credo che anzi comunque e poi soprattutto che dice si occupano di tutto dalla preparazione della salma all'allestimento degli addobbi come dire hai visto pensa a te cosa riescono anche a fare capito chiunque fa così nel senso vedete come la notizia che può essere magari simpatica all'inizio poi scritta è comunque complicata da gestire o meglio non sempre si riesce a far passare il messaggio forse perché in realtà il messaggio non c'è cioè non dovremmo stupirci nel 2024 che quattro donne che sono quattro lavoratrici come tanti altri e tante altre facciano questo mestiere è la prima volta che succede ecco la domanda forse è quella come mai siamo arrivati al 2024 ed è la prima volta che troviamo un intero gruppo fatto solo di donne nel mondo delle onoranze funebri come mai non è tanto il fatto che siano sensibili nel momento in cui si chiude la bara vorrei vedere voi a chiudere una bara oppure che quando entrano nella sala il com'è si sono i volti mesti per il leggo il primo pezzo sopravi capire quando sono comparse i volti mesti per il lutto si sono riaccesi per un attimo e l'aria si è riempita di un brusio di stupore che a loro è pesato molto più dello stesso contesto funebre ecco capite questo è quello che succede nel senso che vedere quattro donne che gestiscono la bara e tutto desta stupore nella gente che le vede forse questo è il problema non è tanto che loro siano le prime donne a fare una roba del genere ma che ancora noi rimaniamo stupiti di fronte a una cosa ovvia come vedere quattro persone in questo caso quattro donne che stanno facendo il proprio lavoro Ed Sheeran Two Step insieme a Ultimo 8 e 40 minuti Crystal Radio 331 7853 555 avete un Whatsapp da Erika che dice buongiorno Fabio io sono amante della pioggia prima parlavamo del fatto di quando il meteo in questi giorni finalmente c'è il sole dice io sono amante della pioggia è più difficile essere felici quando c'è brutto tempo piuttosto che nelle giornate di sole è come sempre una sfida a se stessa sarà non so com'è comunque accetterò comunque la luce e me la farò andare bene va bene buongiorno anche a te Erika per questo Whatsapp che ci ha mandato al 33178 5355 Corriere della Sera Milano leggiamo un altro giocatore titolo ve l'avevo detto in apertura parliamo di Baggio perché? perché Milano l'effetto della metropolitana a Baggio prezzi delle case più alti del 10% nel 2025 valori medi a 3400 euro al metro quadro allora sicuramente bassi ancora per fortuna nel senso che 3400 euro al metro quadro sono ancora abbordabili attualmente la media è inferiore ai 3000 euro al metro quadro però la ricerca sul prolungamento della linea rossa dice che è appunto un extra bonus immobiliare in 18 mesi quindi 10% ne aumentano i prossimi 18 mesi mi piace che già non si sa dove saranno le fermate praticamente non si sa neanche se si faranno veramente perché ripeto porto sempre questo casso che è un po' da un alfabeto funzionale portare i casi personali ma vi ricordo che i miei genitori comprarono la casa nel 75 alle porte di Baggio a settimo milanese e gli fu detto signori questo è l'investimento della reta fra qualche anno qui arriva la metropolitana era il 1975 la metropolitana non c'è ancora quindi insomma stiamo lì a vedere comunque c'è questa cosa qui l'effetto è questo l'anticipo su lavori appunto perché dice questo è un effetto metro così viene chiamato da quelli del corriere nonostante questo è presumibilmente appunto un effetto metro come si è già verificato in occasioni analoghe si evidenzi ben prima sul mercato quindi l'effetto della metropolitana arriva prima sul mercato rispetto poi agli effetti reali lo studio immobiliare quantifica nel 9,7% in 18 mesi l'apprezzamento di valore quindi più 9,7% nei prossimi 18 mesi senza sapere dove veramente e quando arriverà questa metropolitana attenzione che questo succederà per le case che sono a meno di 5 minuti a piedi dalle nuove stazioni quindi bisogna proprio andare a capire perfettamente dove saranno fatte le stazioni mentre per le distanze oltre i 5 minuti a piedi e fino a 10 minuti l'effetto si riduce a un solo 5,2% in più del valore di mercato attuale in prezzo medio in questo momento è intorno poco più dei 2.880 euro al metro quadro più o meno dovrebbe diventare sui 3.400 euro al metro quadro il precedente c'è già è quello della M4 dove già sulla totale linea delle 113 fermate è successo anche sulla M4 e già comunque ora sulla totale delle 113 fermate delle linee metropolitane di Milano l'aumento è sempre dietro l'angolo nel senso che appunto aumentano appena si sa che c'è un progetto anche semplicemente di prolungamento o comunque di apertura di una nuova stazione della metropolitana quei prezzi aumentano già solo nel momento in cui si fa l'annuncio poi un ulteriore aumento quando arriva il cantiere poi di solito c'è un momento di stallo quando c'è il cantiere dove la gente vende i negozi si incazza perché non funziona niente non va bene niente si arrampicano e si legano agli alberi che verranno abbattuti però poi dopo quando finisce tutto sotto sta bagarre e succede per ogni stazione della metropolitana è successo a Milano dopo le case hanno apprezzamenti che variano tra un 10 e anche di più per 100 in più rispetto al prezzo che avevano prima dell'inizio del progetto della metropolitana David Guetta insieme a SIA Let's Love 8 e 47 minuti siamo ancora qui per leggere qualche notizia che arriva dai giornali e anche i vostri whatsapp che arrivano a 331 7853 555 grazie mille a Sergio che ci scrive che ci sta ascoltando e complimenti finalmente qualcuno entra nella notizia grazie Sergio non c'era complimento migliore che potevi darci insomma noi siamo contenti ogni tanto di darvi un po' di trattare il serio e il faceto un po' di intrattenimento raccontiamo cose abbiamo ospiti simpatici che vengono a trovarci poi comunque leggiamo anche i giornali insieme a voi come ad esempio questa notizia che ecco qui non entriamo più di tanto c'è la doc come notizia dato di fatto non voglio mi spiace deludere Sergio in questo momento allarme allarme in un laboratorio chimico della Bicocca per una fuoriuscita di acido cloridico ieri sera ha evacuato il padiglione del Dipartimento di Scienze dei Materiali per fortuna nessun ferito e l'alarme sta rientrando però comunque le autoclavi che contenevano in totale 100 millilitri di acqua e un sale di ferro che scaldandosi produce ossidi di ferro e una frazione di acido cloridico appunto il vapore fuoriuscito da queste autoclavi ha attivato l'allarme antincendio conseguentemente l'edificio è stato quindi evacuato le attività poi sono riprese con regolarità ma più tardi nel senso che appunto grazie all'ottimo funzionamento dei sistemi delle procedure di sicurezza non c'è stato alcun danno né a persone né a cose quindi finalmente se qualcuno si inventa di fuoriusciti da laboratori strani ricordate ecco fuoriuscito il virus da laboratori così bene potete dirlo adesso della bicocca quindi cosa ci inventeremo cosa sarà fuoriuscito cosa non ci dicono cosa ci tengono nascosto meditate gente meditate no niente è stato un po' di vapore con dell'acido cloridico e anzi per fortuna ha funzionato tutto perfettamente come dovrebbe essere ma come ogni tanto ci stupiamo che succeda invece in questo caso non ci stupiamo siamo ben contenti che alla bicocca tutto sia funzionato perfettamente e che quindi è stato scongiurato qualsiasi possibile emergenza grazie al appuntitamento appunto dei sistemi dei sistemi d'allarme della bicocca bicocca che è una delle università più importanti della nostra città molto all'avanguardia laboratori che spesso volentieri abbiamo avuto anche noi di Goodman e Milano l'occasione di poter andare a visitare e a scoprire un mondo che troppo spesso rimane sommerso nel senso che se ne parla poco o sei in quel mondo o non se ne parla invece credo che pensate secondo me una delle gite che bisognerebbe fare nelle scuole è quella di andare a vedere i laboratori delle università secondo me sarebbe molto interessante ma non per l'orientamento quelle robe lì a chi se ne frega quella roba lì poi la fate per i fatti vostri no no proprio alle elementari così andiamo a vedere il laboratorio di fisica nucleare della Bicocca cioè secondo me è una roba che appassiona allo studio cioè perché se mi avessero fatto vedere qualche laboratorio in più forse anche io avrei studiato un po' di più fa capire soprattutto che cosa significa studiare e perché bisogna studiare e fa capire come nonostante i tagli nonostante le difficoltà della ricerca scientifica in Italia la nostra ricerca scientifica sia quella a livello accademico sia quella a livello privato e veramente ai più alti livelli mondiali perché è quello noi ci dobbiamo sempre qua lamentarci ma noi ragazzi viviamo in un paese che ci vorrebbe veramente poco per renderlo il miglior paese al mondo alcuni dicono che già lo siamo forse no così mi sembra un po' troppo un po' troppo ma veramente ci vorrebbe davvero davvero poco vabbè io spero di non avervi annoiato perché se no nel caso se vi ho annoiato cantate insieme ad Angelina Mango la prossima canzone la noia 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre in vostra compagnia come sempre con le notizie di Milano e città metropolitana dopo di noi beh lo sapete dopo di noi Ambrogio Curti con SentiQuesta tutti in coro chi c'è dopo di noi Ambrogio Curti con SentiQuesta si proprio lui proprio lui che ci racconta la musica nazionale e internazionale e tutto quello che fa grande appunto la musica con i suoi aneddoti le sue grandi e competenti capacità oggi è martedì e già il secondo giorno della settimana anche domani è il giorno collinetta e poi siamo già al weekend vi piace come cosa così così vi sembra già che è già passata via dai è passata via veloce sì lo so che non è passato niente però illudiamoci c'è la luce c'è la luce fuori io mi raccomando avete appuntamento domani ma se voi volete ballare danzare tenervi alto il vostro volume interiore beh è facilissimo avete tutta la giornata da passare qui su Crystal Radio a domani allora io vi saluto vi do appuntamento domani sempre qui dalle 7.09 su Crystal Radio in diretta con Good Morning Milano mi raccomando oggi fate i bravi no fate quello che volete me ne interessa ciao ciao